Il leader di Diventerà Bellissima, Nello Musumeci, ha presentato un'interrogazione parlamentare a Lars sull'affidamento dello stadio regionale, considerato che, come dice lo stesso nome, l'impianto di Via Olimpia è di proprietà della regione siciliana. L'ex presidente della provincia di Catania ha presentato una richiesta di ispezione amministrativa contestualmente all'interrogazione. Musumeci chiede di verificare presunte irregolarità nella concessione all'ASD Jarre 1946. Nello Musumeci chiede perché il comune di Jarre, gestore e non proprietario della struttura sportiva, abbia dato in gestione l'impianto con affidamento diretto a un privato, che ne è diventato anche l'unico fruitore, non ricorrendo alla gara pubblica, violando quindi anche il regolamento comunale, e perché l'impianto per il quale lo stesso comune paga alla regione 18.000 euro l'anno sia stato concesso a titolo gratuito, considerato che le utenze restano a carico dell'ente pubblico comunale. Musumeci infine chiede, con una procedura d'urgenza, che si verificano eventuali responsabilità nella procedura seguita.